La festa della mortadela è una manifestazione che da diversi anni viene riproposta ogni estate a Caldonazzo dal locale gruppo Folk. Un fine settimana per presentare ai turisti e alle nuove generazioni un'antica usanza che in un lontano passato veniva praticata in tutte le famiglie del paese. Due giorni all'insegna della buona gastronomia, della musica e dell'allegria, con diversi stand che hanno proposto i prodotti tipici della Val Sugana, la polenta realizzata con il Gran Turco Spin e la mortadella fatta in casa accompagnata dal tipico vino della pavana dei Sicconi. Lungo le vie del centro storico diversi artigiani hanno dato lustro alle loro attività manuali per una manifestazione che è stata organizzata in collaborazione con gli alpini, il comune, la PT Val Sugana e la Cassa Rurale di Caldonazzo. Grazie. Grazie. Grazie.